Sabato 13 settembre, in occasione della giornata internazionale dei lasci di testamentari, in partenariato con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il Consiglio Notarile di Bergamo, il CESVI sarà presente a Bergamo in via 20 settembre con uno stand informativo insieme a Enotai di Bergamo per fornire informazioni sui lasci di testamentari a tutti quei cittadini che sono interessati a questo tema. È un appuntamento molto importante, il tema del lasci di testamentario in Italia, diciamo che è affrontato parzialmente dalla popolazione, nel senso che soltanto l'8% degli italiani ha deciso di fare un lasci di testamentario, quindi siamo piuttosto indietro su questo fronte rispetto a paesi come il Regno Unito, dove circa il 48% della popolazione decide di fare un lasci di testamentario. Quindi l'obiettivo del CESVI è quello di portare a conoscenza della cittadinanza e dei cittadini italiani in generale questa pratica e dell'ascito solidale a favore di organizzazioni di beneficenza, che può essere appunto una forma di donazione assolutamente innovativa a supporto dei nostri progetti di lotta contro la povertà, contro la fame, contro diverse patologie che curiamo nei paesi in via di sviluppo. Grazie.